C'è la giornata europea dei parchi? Visto che ne abbiamo uno molto bello, approfittiamo di parlarne. Italia Nostra è un'associazione nazionale ben conosciuta che tutela, perché il suo faro è l'articolo 9 della Costituzione, e quindi tutela il patrimonio artistico e anche naturale. A relazionare sul tema del focus la dottoressa Mina Chirico e la dottoressa Antonietta Dell'Aglio. La configurazione geomorfologica della città di Taranto e la presenza del Mar Piccolo ha favorito sin dalla fine del VI millennio a.C., quindi dalla fase neolitica, il popolamento lungo le coste. E quindi cercare di valorizzare quanto ancora si conserva, soprattutto nelle aree non interne alla città, ma diciamo nella costa settentrionale dei Due Seni, dove ci sono diversi siti come Buffoluto, San Pietro, Le Corti, potrebbero essere valorizzate. Questa sera ci concentriamo sul racconto della Circu Mar Piccolo, quindi della linea ferroviaria che circonda il secondo seno del Mar Piccolo, dalla vecchia antica stazione di Nasisi fino all'arsenale. È un percorso militare, cioè nasce come ferrovia militare, circonda praticamente la zona più bella sicuramente di tutto il nostro territorio, attraversando terreni seminati, attraversando uliveti secolari, attraversando soprattutto siti storici di grande interesse, che sono proprio a due passi dai binari. A rappresentare l'amministrazione comunale di Taranto l'assessore all'ambiente Laura Di Santo. Con la carta europea del turismo sostenibile il parco regionale Mar Piccolo chiaramente si apre a nuove prospettive. Assolutamente a nuove prospettive, a nuovo sviluppo economico che è importantissimo per il nostro territorio. Quindi è proprio per questo che si sta cercando di costituire, si sta lavorando assolutamente con tutti gli stakeholder convolti e quindi noi siamo al lavoro. I lavori sono stati coordinati dalla professoressa Francesca Poretti.